ciao ciao a tutti amici benvenuti sul canale di lina prima di tutto buon anno a tutti oggi e per incominciare l'anno nuovo la lina vi ha portato a dei portafortuna ricominciamo con portafortuna plus questo è un numero 9 della serie 90 sono della stessa serie però non consecutivi buona visione a tutti amici e passiamo alla nostra battaglia non prima di aver firmato ok allora portafortuna plus abbiamo numero 100 ecco 22 cominciamo con le babarelle 23 46 25 e 41 ok questi sono i numeri 100 eccoli qua prima nostro numero adesso passiamo al nostro numero incominciamo con un 19 continuiamo con un 20 poi abbiamo 21 abbiamo il 22 34 e 33 poi abbiamo 44 niente 26 non c'è 43 non c'è 40 niente di tanto tanto non abbiamo niente e poi abbiamo 14 e non possiamo fare bastava per 2 e abbiamo 28 non dopo non ce l'abbiamo 38 niente e 24 abbiamo il 23 niente con il numero non aveva fatto niente, questo è il numero 9, come avevo detto, passiamo alle coccinelle, vediamo un po', allora bentolone, portiere, bentolone, ok, due bentoloni e fragole, ok, biglietto vincente e ci dice 5 euro che è ripreso il bigliettino, comunque non è perdente, ok, il numero 9 si divaga, continuiamo con il numero, questo è il 13, allora, il numero 5 abbiamo, 45, 14, 35, 21 e 22, questo 22 torna, ok, allora, primo numero abbiamo, 29, noi non ce l'abbiamo, poi abbiamo, 40, di nuovo, poi abbiamo 24, non c'è, 22 si, abbiamo il numero, poi abbiamo 32, non c'è, 13, non c'è, come il biglietto, 41, no, abbiamo il 21, guarda, abbiamo 38, non c'è, 36, 35 e 42, non c'è, comunque prima di scoprire il 22, abbiamo il 22, mi sembra, ma non lo vedo più, ah, eccolo, ok, e andiamo alle coccinelle, vediamo, se c'è qualcosa sotto, elefante, soldi, anello e corno, non c'è da fare, il 22 ci dice, altri 5 euro, ripreso l'altro biglietto, numero 13 si ripaga con 5 euro, continuiamo con il numero 19, ma questa è un'altra serie, amici, no, i primi due erano della serie 90, questo invece è il 26 e 37, è un'altra serie, non me l'ho accorto, ok, allora, numero 21 5, abbiamo, dove sono, 16, 24, 44, 12, 22 di nuovo, oggi la donna al 22, ok, le nostre paparelle tornano a trovarci, cominciamo con un 18, abbiamo 41, 29, 35 e 37, niente, continuiamo con un 30, abbiamo 20, 32, 33 e 43, che è 44, per 2, per 2 abbiamo, cosa abbiamo, 36, che non c'è, che non c'è, abbiamo 19, niente, 34, niente, le coccinelle, portiere, perla e portiere, due portiere, ok, qui lo andiamo, di nuovo 5 euro, 8 e 5 euro, comunque amici mi sono accorto una cosa, il bulletto di prima, che non ho gattato il x2, mi dimentico, è qualcosa, allora, qui abbiamo preso 5 euro, o il 22, per ora dobbiamo dire se c'è qualcosa, qui, nei molti obbligatori, allora, abbiamo 28, non c'è, poi abbiamo 44, non c'è, c'è 45, e poi abbiamo il 27, che non c'è, non c'è niente, comunque, restano 5 euro, i molti obbligatori non ci hanno dato niente, no, ok, meno male che mi sono accorto, quanti tanto dimentico a questo bulletto, ho dimentico le coccinelle, ho dimentico i molti obbligatori, ma che cosa dimentico, allora, questo è il numero 46, ok, allora, questa serie è sempre 37, ok, allora, cominciamo con 27, 42, 12, 31, ma stavolta c'è abbandonato il 22, non c'è il 22, una volta c'è c'è portato fortuna il 22, abbiamo 3 bulletti di vincenze, anche se con 5 euro, ok, allora, primo numero, 24, 24, no, poi abbiamo 40, poi abbiamo 16, non c'è, 37, poi abbiamo il 27, ed il 30, 45, niente, 25, 19, 46, e 20, niente da fare con il numero, vediamo moltiplicatori, abbiamo 29, non c'è, 23, niente, 32, 38, niente, prima gioco, niente, vediamo un po' le coccinelle, allora, ferro, monete, stella e lingotto, non c'è da fare, prima bollettino, guardate, comunque, era il numero 46, ok, passiamo all'ultimo bollettino da 5, questo è il numero 49, sempre 6 e 37, ok, 26, numero 800, 26, 28, 39, 45, e 13, bene, prima numero, abbiamo 22 di nuovo, ma non ce l'abbiamo, poi abbiamo 17, non ce l'abbiamo, abbiamo 13, 34, 18, e 45, sì, il numero abbiamo preso, poi abbiamo 36, che non c'è, 21, non c'è, 37, neanche, 27, c'è il 26, e 25, c'è sempre il 26, poi abbiamo per 2, 44, niente, 43, e 46, boccato, ne abbiamo 45, tutti 40, però non quello giusto, vediamo, vediamo le coccinelle, monete, arcobaleno, pentolone, e monete, bene, doppia vincita, allora, vediamo, qui abbiamo 5 euro, e qui, altri 5, ci siamo abbonati al 5 euro, però, vabbè, vabbè, comunque, un bollettino da 10, 49, perché abbiamo 5 su 45, e 5 con la moneta, ok, vabbè, comunque, su 5 bollettini gattati, abbiamo, ripreso, 4 vincenti, adesso passiamo al nostro bonus, che è una scova oggi, ok, è una scova, questa è l'ultima del pacco 90, numero 74, e vediamo un po' che ti dici, allora, 2, 4, 0, 4 che è 7, bene, 7, vediamo un po' che ti dici, abbiamo un 7, incominciamo con un 8, continuiamo con un 10, e 5, non ce la parla, abbiamo 6, 1, e 9, no, abbiamo 3, 4, e 8, o 9, 8, abbiamo un 10, un 2, e un 1, niente, fai scopa, non vincenta mica, ok, comunque, oggi, cosa abbiamo combinato, abbiamo cattato 5 bollettini da 5, 5 da 5, e 1 da 2, allora, un portafortuna, fai scopa, perdenti, comunque, abbiamo preso, con 4 bollettini, 4 vincenti, allora, 10, 15, 20, 25, quello che abbiamo speso, abbiamo ripreso, stiamo a 2 da 2, di 2 euro, solo il fai scopa, perché erano 5, da 5, quindi per 5, 25, va bene così, e comunque, incominciamo bene l'anno, diciamo così, noi siamo andati in perdita, più o meno pari, ok, in perdita di 2 euro, comunque, ce la possiamo fare, ok, grazie a tutti amici per aver saputo il video, l'appuntamento al prossimo, buon anno a tutti, che sia un anno migliore, speriamo che questo Covid ci abbandona, speriamo che tutti si decidano a vaccinarsi, che questa è una cosa molto importante, e che con solo quel vaccino si può combattere, ok, detto questo amici, auguri a tutti, buon anno a tutti, un bacio, un bacio, un bacio alla luna, ciao, al prossimo video! Grazie a tutti!